sia per quello che riguarda i calzini, sia per quello che riguarda la marca dei bossoli ritrovati. E comunque Vinci era un personaggio che dall'84, dal dopo, il delitto Rontini, Stefanacci, viene attenzionato in maniera seria, quindi viene seguito, viene intercettato e non emerge nulla di significativo, questo da un punto di vista investigativo c'è da dirlo su Salvatore Vinci. E' vero che i delitti, lui viene arrestato nell'aprile del 1986, i delitti finiscono nel 1985, perché spesso si fa il discorso di Pacciani, dice ma è stato arrestato Pacciani e i delitti sono finiti, no, Pacciani è stato arrestato a maggio 1987, semmai quando viene arrestato Vinci finiscono i delitti. Vinci è stato arrestato nell'86, quindi invece i delitti sono finiti, quindi di solito in primavera non colpiva mai, quindi poteva essere un lasso di tempo necessario. Sono coincidenze che possono dire un poco. Potrebbe invece avere a che fare con il mostro, Salvatore Vinci? Non si può escludere, non si può escludere. Da cosa? Poteva avere a che fare lui ad esempio con l'arma, c'è sempre questa arma, la genesi di quest'arma? La genesi di quest'arma è molto vasta, nel senso che fu fatta una ricerca, mancava un'arma a Villa Citro, paese di provenienza dei Vinci, che non è stata mai ritrovata, e il giudice istruttore e gli inquirenti di allora erano convinti che era proprio quella usata poi dal mostro. La stessa arma che non è stata l'unica, l'unica che non è stata rintracciata rispetto al registro delle vendite. L'unica al registro delle vendite di quell'armeria lì. Certo, poi era un'arma molto usata, quindi è sempre un fattore teorico questo. La prima dichiarazione del Miele dice, io non c'ero, non so cosa sia successo. E concorda con quella di Natalino, che il papà non c'era. Quindi queste sono le prime dichiarazioni, che secondo me sono quelle genuine e veritiere.